Qui a Berlino Tempelo fino a occasione della Formula E abbiamo trovato il Volocopter, un taxi aereo naturalmente che è proposto in versione elettrica e adesso prossimamente aspetta la certificazione per la guida autonoma. Sentiamo di questo responsabile quello che significa avere questo veicolo e quello che significa volare con il Volocopter. Ciao, presento a voi al pubblico, presento il Volocopter e siamo molto curiosi di sapere come è iniziata questa avventura. Abbiamo iniziato a lavorare con il Volocopter nel 2011, dove abbiamo provato che sia possibile usare tecnologie dronese e farlo così grande che due persone potrebbero volare con l'anno. E da ora abbiamo continuato a sviluppare il concepto per creare un taxi elettrico che funziona come un taxi nelle migliori città del mondo. Mi ha detto prima che ci sono diversi Volocopter all'interno del mondo. Sì, abbiamo vari vari Volocopter che avviamo con il volo, il volo che vedete dietro mi ha avvicinato circa 100 volte e continuiamo a avvicinare con il volo. Ci sono tre modi dove potete avvicinare con il volo. Puoi fare un volo controllo per la guida, per il pilota sul terreno, un pilota che avvicinare un controllo che avvicinare un controllo e poi potete avvicinare autonomamente. E ora ci sono aspettando la certificazione per l'autonomo? Sì, perché vogliamo usare l'autonomo in città e usare come servizio commerciale, abbiamo lavorato con l'autorizzazione europea per ottenere una licenza commerciale. Abbiamo aspettato che avvicinare nei prossimi due o cinque anni. È molto complicato avere la certificazione per volare per un volo elettrico. Per volare, non è così difficile. È così facile da volare come un dronone. Però, provando alle autorità e all'EASA che questo è molto, molto sicuro, è difficile. Ma possiamo fare, stiamo lavorando su questo. La società è in Karlsruhe, in Germania, ma ci sono volocoptersi allo mondo. Sì, è vero. Abbiamo basato in Germania, in Karlsruhe, un po' almeno a lì. Ma il sistema e la tecnologia che vogliamo usare in le megacittà del mondo. Abbiamo già avvicinato a Dubai nel 2017. È stato un volo pubblico autonome. Il primo volo pubblico con la licenza era in 2016, come un veicolo sportivo. e stiamo planando a volare in Singapore in più. Se qualcuno vuole volare con il volo, cosa deve fare? Deve essere un po' patiente. E poi, in circa 3-5 anni, quando abbiamo ricevuto la licenza commerciale, potremo volare con noi. Grazie mille, vi vediamo con te, e potremo contatto per avere più informazioni. Nel prossimo voliamo! Sono pronti, mi piace molto volare, quindi sono pronti. Perfetto, grazie! Grazie mille!